La coppia più famosa di tutte le riviere quest'anno fu una coppia portoghese la gente assai curiosa narrava col piacere di questa coppia le più strane imprese lui grande cacciatore di farfalle girava a catturar le notte di e lei pescava i gamberi in gondola, in gondola e lei pescava i gamberi in gondola sul mare e i giovanotti in ghingeri vedendola, vedendola uscivano dai gangheri vedendola passare la gente non credeva dubitava mormorava qualcuno si chiedeva senza rete come fa e lei pescava i gamberi in gondola, in gondola e lei pescava i gamberi in gondola sul mare ma tutte le farfalle più rare e più pregiate che lui con grande amor collezionava finite le vacanze non furono trovate perché con quelle proprio lei pescava e quando lui si accorse della cosa dal gran dolore un colpo si sparò e lei pescava i gamberi in gondola, in gondola e lei pescava i gamberi in gondola sul mare e i giovanotti in ghingeri vedendola, vedendola uscivano dai gangheri vedendola passare la gente non credeva dubitava, mormorava qualcuno si chiedeva senza rete come fa e lei pescava i gamberi in gondola, in gondola e lei pescava i gamberi in gondola, in gondola in gondola sul mare grazie a tutti